Sull'utilità e il danno della storia è una delle opere scritte da Nietzsche che compare nelle considerazioni inattuali scritte dall'autore tedesco tra il 1873 e 1876. Il titolo completo è sull'utilità e il danno della storia per la vita. In questo scritto Nietzsche polemizza contro quella che gli definisce la malattia dello storicismo, cioè l'eccessiva venerazione della storia che ha indebolito la personalità, ha impedito ai singoli di naturale e ha portato al cinismo, all'egoismo in una prospettiva che indebolisce le forze vitali. Freud, Nietzsche parla per l'appunto di una necessità di obbliglio della storia. La storia in ogni caso non può essere bandita completamente, ma una certa concezione della storia è quella appunto della della storia eccessiva, della storia secondo lo storicismo contemporaneo a Nietzsche. La storia per Nietzsche può essere distinta in storia monumentale, antiquaria, perché appunto dicevamo che la storia di per sé non è certamente da condannare per Nietzsche, anzi la vita ha bisogno della storia, è utile alla vita in tre modi, in quanto l'uomo è attivo e ha ispirazioni, in quanto venera, in quanto soffre ha bisogno di liberazione. Dicevamo della storia monumentale e antiquaria che fa rivivere i modelli grandi della storia, una storia antiquaria che costituisce bene nel passato. A questa Nietzsche distingue una storia critica, si serve del passato per infrangerlo e condannarlo. Tuttavia, continua Nietzsche, se verso la storia riusciamo ad avere un atteggiamento critico, possiamo servirci di essa senza divenirne schiavi. La polemica di Nietzsche quindi si rivolge verso quelle correnti filosofiche come lo storicismo migliano che pretendeva di prevedere attraverso leggi necessarie il corso degli eventi e che finivano per rendere marginale l'individuo e lo strumento della ragione stessa. Secondo Hegel, quindi la storia era l'incarnazione di una ragione, non nel senso individuale, ma di una ragione assoluta come appunto spirito del mondo.